Giuseppe Musarra, un abile artigiano di 44 anni, originario di Tortorici e residente da qualche anno a Torrenova, è specializzato nel realizzare splendidi manufatti con lavorazione al traforo che spaziano da semplici oggetti a lavori molto più complessi. Giuseppe è paraplegico fin dalla nascita, ma non è questa l'immagine che vuole dare di sé agli altri. Giuseppe vuole parlare delle speciali opere che è capace di realizzare completamente da solo. Certo, ci vuole molto tempo, pazienza e precisione, perché la lavorazione al traforo richiede tantissima abilità manuale indipendentemente dall'articolo che si intende produrre. La passione di Giuseppe nasce già alle scuole medie quando durante le ore di educazione artistica i professori si accorgono della sua propensione più per le attività manuali che per lo studio sui libri. E da allora in poi ho coltivato questa mia passione fino ad arrivare al punto che sono oggi. Prendo spunto da modelli già pronti, poi li ricalco sul legno e con il seghetto da traforo l'intaglio e il ritaglio. Con il passare del tempo arrivano anche oggetti più importanti quali portariviste, portacorrispondenza, appendichiavi, portapenne, portacandele, cornici di varie misure e intagli, cestini per il cucito, lampadari, lampade, nonché uno splendido prototipo della torre Eiffel e di un meraviglioso mulino con le pale in movimento nel quale è incastonato un orologio perfettamente funzionante. Modelli entrambi rigorosamente illuminati. Ma c'è di più. L'artigiano è riuscito incredibilmente a creare anche un rivestimento pannellare per la cucina al fine di inserire i faretti da incasso, armadietti a muro e tanto altro.